Lei abita qui dietro, che ha anche l'attività, come sta vivendo a questi momenti? Ma è un momento un po' drammatico diciamo, dal punto di vista, stiamo capendo un po' anche come dobbiamo comportarci, perché addirittura io ho tre dipendenti che vengono dai paesi limitrufi a Vauaneo, se vengono a lavorare, se possono venire, ho dei clienti già prenotati da qualche settimana per fare che loro addirittura arrivano e ci lasciano la macchina in custodia fino alla sera, dunque quelli potrebbero anche venire e andare via, lo so, le difficoltà, per carità, sono d'accordissimo, il virus non è che si vede, e in dolore diciamo, ma purtroppo è un problema, un problema che si può risolvere chiudendo la chiave, è chiuso, ok, è chiuso e lì finisce tutto. Lei ha fatto il tampone? No, non abbiamo fatto ancora il tampone perché nessuno ci ha detto ancora niente, comunque ho mio figlio che è lui dirigente qua, che si sta preoccupando oggi in comuni, in municipio, per sentire qual è la strategia che faranno per la settimana in corso, insomma ecco. Siete pronti a farlo comunque? Sì, sì, siamo prontissimi per carità, anche per rispetto degli altri, per i familiari, per tutto, insomma ecco. Conosceva lei la persona che è mancata? Mamma mia, sì sì, siamo un paese piccolo e ci conosciamo, una persona che tra l'altro è anche di corporatura robusta, cioè non è che per caso lui accorgersi un po' prima si poteva anche salvare perché il suo coetaneo che era lì, lui è vivo, è in ospedale a Padova, però lui è morto, era una persona, tutti ci conosciamo qua, no?